È dell'Università dell'Aquila lo studio per debellare le cellule dormienti del cancro al seno. È dell'equip coordinata dalla dottoressa Anna Maria Teti lo studio sulle cellule dormienti del cancro, cellule che possono sopravvivere sino a 15 anni. Sono le cosiddette cellule tumorali dormienti che sfuggite precocemente al tumore primitivo si vanno ad annidare in organi distanti dove restano addormentate anche per anni finché un trigen non le risveglia, allora cominciano a replicare e a formare delle metastasi. Il fenomeno studiato dall'equip aquilana si chiama appunto dormancy e indica la dormienza, la quiescenza delle cellule tumorali. Queste cellule arrivano a sopravvivere sino a 15 anni e purtroppo, proprio in quanto dormienti, sfuggono alle terapie antitumorali mirate contro le cellule a rapida divisione, risvegliandosi iniziano a produrre metastasi. Le recidive riguardano il 15% dei casi. Lo studio è finanziato dall'Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro e viene condotto dal Dipartimento di Scienze Applicate alle Biotecnologie dell'Università dell'Aquila. La squadra di ricerca è composta da 7-8 persone che si occupano in generale delle malattie dell'apparato scheletrico e che lavorano a questo studio da tempo. L'equip è coordinata dalla dottoressa Anna Maria Ateti. Dopo un'esperienza negli USA è rientrata in Italia. Attualmente è professore ordinario di istologia all'Università dell'Aquila, dove coordina anche un gruppo di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale. Si occupa della terapia sperimentale dell'osteopetrosi, una grave malattia dello scheletro dovuta all'inattività delle osteoclasti, le cellule e osse che normalmente sostituiscono il tessuto vecchio con osso nuovo e garantiscono le normali funzioni dello scheletro.